Ciao a tutti amici e bentornati sul canale, un video velocissimo quello di oggi, solamente una news perché voglio parlarvi di un prodotto che ho scoperto ieri, che mi è saltato davanti agli occhi ieri mentre stavo organizzando alcune delle video recensioni di prodotti che ormai sono in ritardissimo ne ho le prove, ho qua gli auricolari True Wireless della UMI, ho la Mi Band 4 che se continua così ve la recensisco a dicembre in più anche qualche altro prodotto che è destinato invece al secondo canale ma di cui parleremo più in là quello di cui tratteremo oggi invece riguardo un marchio automobilistico premium di una nota casa tedesca perché se siete stanchi di girare con i vostri monopattini, con delle marche da barbone vi viene incontro BMW ragazzi io ho scoperto che qualche giorno fa BMW ha lanciato il suo nuovo monopattino elettrico in realtà tra l'altro non lo fa BMW, lo fa Micro o Micro, dipende da come lo vogliamo pronunciare ed è stato lanciato un nuovo monopattino elettrico non per lunghe distanze ma per brevi distanze e brevi distanze significa anche caratteristiche inferiori alle quali siamo abituati quindi abbiamo meno velocità, una batteria più piccola, delle ruote più piccole l'unica cosa che ho notato che è più alto rispetto agli altri monopattini è il prezzo non ve lo dico subito, andiamo prima a guardare le caratteristiche, andiamo anche a guardare qualche immagine e questo nuovo piccolo monopattino elettrico di BMW, in realtà di Micro per BMW è chiamato semplicemente e-scooter, quindi scooter elettrico sarà un piccolo monopattino come abbiamo detto per brevi distanze che andrà un po' ad ampliare la gamma dei monopattini che già BMW aveva in programma tra quali c'è anche un altro Micro già in produzione di BMW non elettrico quindi solamente a spinta, mentre con questa nuova gamma la BMW entra dall'autunno quindi saranno in vendita già da settembre 2019 due modelli di scooter uno destinato ai bambini, ma diciamo non ne parleremo adesso in questo video e uno invece dedicato agli adulti e diciamo che non sappiamo ancora molto di questo piccolo e-scooter se non avere qualche immagine ed avere qualche caratteristica tecnica fondamentale per esempio sappiamo che avremo 20 km orari di velocità massima che avremo due sistemi di frenata separati e avremo anche delle luci integrate, sia anteriore che posteriore per andare un po' a salvaguardare la sicurezza alla guida il monopattino peserà solamente 9 kg avrà un sistema di chiusura molto veloce e molto semplice per poi poterlo magari caricare nel bagagliaio della propria auto il motore è un piccolo motore da 150 watt con una batteria a litio che è conservata all'interno della pedana cosa molto importante è che anche in questo piccolo scooter della Micro per BMW e la trazione sarà posteriore quindi il motore sarà montato nella ruota posteriore che come potete vedere dall'immagine è più piccolina rispetto a quella anteriore e una batteria piccola significa anche una minore autonomia infatti dai dati dichiarati sappiamo che questo monopattino dovrebbe percorrere all'incirca 12 km e la batteria si dovrebbe ricaricare all'incirca in due ore dopodiché saremo pronti per ripartire e come vi dicevo ragazzi BMW ha dichiarato che questo nuovo monopattino sarà già in vendita da settembre di quest'anno al modico prezzo di 799 euro e quindi diciamo che se lo andiamo a confrontare un po' con gli altri monopattini che sono già presenti sul mercato paghiamo un bel po' il marchio ma la cosa curiosa è che Micro ha lanciato contestualmente la sua versione di monopattino elettrico marchiata direttamente Micro che è allo stesso prezzo quindi sempre a 799 euro ha delle caratteristiche nettamente superiori partiamo da un peso di 11 kg per un monopattino se vogliamo classico con due ruote da 8 pollici sia anteriore che posteriore a gomma piena senza camera d'aria una batteria che garantisce un'autonomia di 25 km una velocità massima di 25 km orari sempre tre sono le modalità di guida abbiamo come abbiamo visto per i nostri Ninebot e per i nostri Xiaomi abbiamo una modalità eco una modalità standard drive quindi che porterà il monopattino fino a 20 km orari e una modalità sportiva che lo spingerà fino a 25 km orari e nel nuovo Micro avremo anche una batteria integrata all'interno della pedana da 7.8 Ah che si ricaricherà all'incirca in tre ore avremo anche la frenata rigenerativa una cosa molto importante avremo anche un piccolo display sul manubrio dal quale poi potremo anche settare le varie modalità di guida un'ultima caratteristica di questo Micro che è stato battezzato Merlin è che una volta chiuso può essere trasportato a mano oppure trascinato sulla ruota anteriore un po' come se fosse un trolley caratteristica che abbiamo già visto nei Ninebot modello ES insomma caratteristica alquanto standard che abbiamo già visto in monopattini usciti negli anni passati che oggi credo che costino un pelino meno di 799 euro resta il fatto ragazzi che Micro è una marca molto affermata specie qui in UK non c'è un bambino che non abbia un monopattino Micro e ci sono tantissimi adulti che utilizzano questi monopattini della Micro fatti in alluminio con delle ruote in gomma rigida staremo quindi un po' a vedere come si comporteranno nel mercato e quali saranno i veri prezzi di vendita poi nei vari siti online e quindi amici vi soledicherebbe l'idea di andare in giro con un monopattino con un bel logo BMW incastonato sotto il fanale anteriore oppure scegliereste il monopattino Micro Merlin al posto dei classici Ninebot S1, S2, S4 oppure M365, M365 Pro oppure se per 799 euro scegliereste il Micro Merlin al posto del nuovo Ninebot Kick Scooter Max per esempio mi raccomando fatemelo sapere nei commenti parliamo un attimino di questi due nuovi monopattini che si vanno ad affacciare su questo mercato della micromobilità elettrica e quindi ci leggiamo tutti quanti nei commenti mi raccomando io adesso vado a montare le nuove recensioni e naturalmente vi ricordo di lasciare un like di iscrivervi al canale attivando anche la notifica della campanella in modo da non perdere le uscite dei prossimi video con questo è tutto io oggi vi saluto un mega abbraccio dal vostro Far West